giada dove sei ciao giada che sono tutti questi bei regali qui sopra te li ha portati la befana mamma quanti allora sei stata bravissima sì sì saluta prima ciao ragazzi vediamo che ti ha portato questa befana bravissima vediamo wow com'è bello come brillante fallo vedere qua bellissimo ok poi di frozen poi che ti ha portato sempre di frozen la borraccia bellissimo giralo così lo vediamo ok poi che ti ha portato che cosa ti ha portato che è caduto per terra prendilo è caduto il pigiamino delle cry baby bello poi qua davanti vedo dei trucchi che sono strozzer c'è scritto strozzer sono dei trucchi di strozzer bellissimi ok poi fa niente posa il pigiamino mettilo sulla sedia mettilo da parte dove vuoi che cos'è questa scatolina piccolina che c'è scritto barbie che c'è scritto barbie bellissimi con gli accessori per il lego barbie ok metti da parte poi abbiamo pure la calza delle lol bellissima e fammi vedere cosa c'è dentro la calza vediamo che c'è numero 1 la borsetta numero 2 la l'agenda o diario segreto bellissima poi dall'altra parte abbiamo uno scatolone gigante che cos'è la chimica sorprendente ci sono 180 esperimenti sì è come quella è la stessa clinica è la stessa clinica sì ok metti da parte poi le apriamo e ci giochiamo porta via e dove mettiamo? mettila giù dove vuoi sì ok lo so che segneremo il video però dai poi abbiamo una calza piccolina finalmente ci saranno forse un po' di caramelle vediamo questo è della bestia sì aspetta è un trucco per certi tira il nastro vai ora l'hai chiuso invece di aprirlo dai che ti aiuto dammi è perché gli hai fatto il nodo adesso sei riuscita? sì apri ok vai ce la fai? sì sì ce la prendo la posso si guapare? sì quante caramelle bellissimo e poi che c'è lì? un altro calzettone apriamo mw mhm adesso svegliamo non ci sa tira apri il nastro apri il nastro sì il fiocco aprilo ma come sta? non quel eh! quello devi tirare sì non c'è vai 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 vuoi si sa prendo non? questa Befane è stata bravissima l'ha chiuso bene bene Vai, apri Forza che ce la fai Forza Forza Apri, apri, apri Ce la fai Dai Attenta che ti cadono a terra Attenta che cadono a terra Pronti Attenta Quante caramelle Wow Sposta Fammi vedere Togli questi pacchetti di sopra che c'è Sposta questi pacchettini da sopra Sposta Fai vedere un pochino C'è lucida labbra Poi Apri, apri, scava Facci vedere che c'è sotto queste caramelle Alza questi pacchetti che non vediamo niente Questi Braccialetti Poi Sposta, sposta tutto Vai, apri Apri, apri Vediamo cosa c'è Ci sono gli avetti Di Ladybug Poi Ci sono altri pacchettini confezionati Cosa c'è là in quel pacchettino vicino a te? Cosa sono quelli? Sono Un paio di Di guanti Ok Apri Falli vedere E questo uovo gigante Ok E poi ho visto un'altra bustina piccolina Che c'erano degli Sma Smalti Sono lì sotto Prendili Qua Qua già da dove c'è l'uovo gigante Vedo una bustina Eccolo di fronte a te proprio Olle Va bene Saluto a tutti Ciao